Ciao a tutti, oggi apriremo queste altre 3 blind bag della Whizzyland insieme a Olin, la prima effetta che ho trovato, e apriamole subito perché non vedo l'ora di trovare lei, speriamo, Eira, prego, speriamo che ci sia, prima o poi la trovo perché ho preso tutto il box, però non vedo veramente l'ora di trovarla, vediamo, 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 allora, sì, è lei, finalmente, sì, yeah, aah, Eira, ok, basta, calmiamoci, è l'alfa delle foglie, è sempre contenta, si mimetizza ovunque, l'amica del cuore è Aelis, che appunto è Aelis, aspettate che, lei, ne ho il dito sopra, che è quella che ho trovato nello scorso video, finalmente, oddio, sono troppo felice, vediamo un po', vediamo un po', oh mio Dio, è bellissima, mamma mia, apriamo subito, oh mio Dio la bellezza, era ora che ti trovassi, cara, però, tanta pazienza, che bella, ha gli occhi castani, marroni, insomma, questo vestito che è stupendo perché è una specie di nero con i glitter verdi e le scarpette viola, bellissima, la adoro, bella, bene, ora passiamo alle prossime, vediamo un po', i suoi capelli si cambiano colore con il sole, quindi per ora di quelle che cambiano colore con i capelli si ruminano al buio, ne ho solamente una che è lei, la prima che ho trovato appunto, andiamo avanti, allora, eccola qui, questa è Estelle, i suoi capelli brinano al buio, bella, allora, oh la migliore amica è Olin, carina, Estelle è l'elfa dei prati, è dispettosa e burlona, può fermare il tempo, beata lei, allora, eccola qua, bella, 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 andiamo a vedere com'è fatta, ha il braccialetto verde ovviamente, bella, è seduta, bellissima, andiamo un po', bella, allora, ha i capelli verdi, con i codini, negli occhi sono sempre castani, diciamo marroni, questo vestitino che adoro è bellissimo, è bordeaux con le foglie viola, lilla, e le scarpette verdi, bellissime, veramente bella, mi piace, e appunto è Estelle, il codice, eccolo qui, e poi l'ultima, per oggi, perché ne ho ancora 9 da aprire, quindi, vediamo un po', bevi, di nuovo, e beh sì, ci dovevano essere delle doppie, perché appunto sono 16 in un box, mentre invece sono solo 12 personaggi, quindi per forza ci deve essere un doppione, che la lascio nella sua confezione, perché poi scambierò, quindi, prima doppia l'abbiamo trovata, bene, anche per questo video è tutto, se siete interessati a scambiare mevi, o comunque qualsiasi altro tipo di blind bag, vi invito a iscrivervi al gruppo Blind Bag Collections Italia, su Facebook, che appunto potrete trovare varie cose riguardanti le blind bag, niente, a presto, al prossimo video, ciao! Grazie!